Sono molto felice di aver scelto Agrigento per la nuova stagione 2023-2024, volevo ringraziare in primis la società per avermi dato questa grandissima occasione di giocare in una piazza come Agrigento. Un saluto particolare a tutti i tifosi dell'Agradas e ci vediamo il 24 luglio per iniziare questa nuova avventura tutti insieme, non vedo l'ora di cominciare e di gioire insieme a tutti voi.